Buonasera signori, intervista ai migliori in campo della Real Tunisiana Rosati De Pompeis, partita prima terminata contro Civetti, United Quanto è finito il potere? No, grandissima partita solo nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo mollato Però abbiamo un grande portiere Complimenti, ho visto l'ultima parata Il resto continua da fare il portiere, un fenomeno Senti, vuoi dire qualcosa per tu De Pompeis? No, no, sono contento della vittoria della squadra E il portiere più forte del campionato Di che anno sei? 94 mi sembra 93 Il portiere più piccolo e più forte Bravissimo Autore anche di un gol Sei entrato o po' della classifica individuale? E' l'unico portiere che ha fatto uno Sei entrato? Ok, ok Ricordiamo che il nostro portiere ha fatto uno Ma giocare avanti però No, calcio di ricordo Però l'ha segnato Senti, parliamo un po' di malizio di Mario Il nostro capitano Mauro Il nostro capitano è un fenomeno Capitano, vedi qua Il nostro capitano Con pieno merito vincerai Speriamo Speriamo Lo vinci, si lo vinci Chissà quant'è avuto oggi Ma avete visto poi i risultati? Si è capito niente Allora la Sampo Doria ha fatto ricorso No, sai I Galattico S'hanno fatto ricorso Per la partita Non precedente No, gli diamo il pareggio Perché avevano perso di un golo Perché Sposito Non giocava nel corso Quindi loro sono diventati primi La Sampo Doria è diventata seconda No, a pari punti Per differenza di rete Quindi molto probabilmente Sampo Doria ha vinto il campionato Dai, il Galattico Sanno vinto il campionato E noi siamo un terzo o quarti Non mi ricordo Ho terzo o quarti 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 Mi viene di te Mi sono disposto anche a sacrificare I miei buona media voto Per far vincere prima a Malizio Non c'è bisogno Ma voi potete anche vendere i vostri voti Li vendete Per far vincere a Malizio Hai avuto un sette e mezzo Oggi ho fatto scelta 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 E' uno scuola Ah, è uno scuola E' uno scuola Chi l'ha premiato? Chi l'ha premiato? Sandro, ma stiamo pazziando Ma hai visto? Io non lo volevo dire Ma c'è costato 50 euro E' di conto E' di conto Si è cattata tu te Che so Sì, ora premiamo il mio gioco della settimana Ringraziamo tutti i ragazzi Della la turistiana Un saluto a Max Bravo, Deco Pace Vieni qua, se c'è